una piccola collaborazione ve lo chiediamo eh 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 i brocci sono perfettamente facciamo il portone che si mette a piedi Grazie. 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 Prima piano. In bocca. Vai, 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 vai. Grazie. a forza della freschetta l'espressione della freschissima sono freschissimo sono freschissimo mi ha appena buttato un po' d'acqua in faccia che ve lo presento a far conoscete tutti meglio di me è lui quest'oggi in solitaria giudica la nona edizione della run Ranni Focchi feste del secondo classificato ha di poco sotto i 32 minuti Luca Ponti 32 minuti e 10 secondi per Paolo Poserpio i primi migliori e previ Beppe Bollini grande Bollini bravo Marco 33 minuti e 10 secondi per Marco Pio sesto classificato bravissimo del Vettis Group grande Valerio seguito a ruota da un senso effettorale fuori classifica e da altri amici della runetica Casorate e da altri amici è sicura che ci sarà nevo da qui mi guardo i sedi non è che ci sono sempre ci sono sicure però non è che ci sono sicure e ecco qui arriva anche Fontana bravissimo siamo a 34 minuti e entra anche Andrea Andrea voce del Giro da Paura si Giro da Paura il Giro del Marisotto Andrea Pausoli e arriva anche il Riccio lo più bello dell'atletica Runners Valvo Giro Fresconi Ale 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 Stefano e Ale Diotti Ale Mader bravi ragazzi sono l'assistente Max Ale 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 bravissimi seguiti dal presidente Enea bravissimo in volata con Antonino Trogo Redi Vivo Trogo Grande Antonio non stava facendo fatica Antonio no Antonio era facile lo vedevo Ale è pirata Simone Ale dai ragazzi siamo meno oltre i 20 mazza quanti sono quanti sono andati forti qui veramente tanto forti bravi ragazzi dai 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 fino in fondo bravissimi arrivano anche Antoniazzi bravo Ale Ale Robi 500 Ale Robi 500 portamini loro fortunato ha vinto la categoria sì così è bruttato erano Enrico Enrico Rodaglia Ale Enrico erano Enrico e grandi anni anche tutti gli altri arriva la prima donna sta arrivando la prima donna quindi finito ad applaudirla non ci staccheremo mai invece è sempre lei però è sempre lei com'è sta storia Super Sabina Abbrusetti eh bene Sabina se solo lei è vincita la stiamo a tenere lei con la qui che entra entra anche lei nell'aria feste Super Sabina Sabina Rosetti è la vincitrice 36 minuti e 12 secondi quindi abbiamo tutti gli uomini ovviamente tutti i premiati uomini abbiamo la prima donna attendiamo adesso di vedere chi saranno la seconda e la terza il femminile Allora ragazzi dai fino in fondo Allora Marco dai 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 buon lato a tre qui buon lato a tre per l'ingresso Allora ragazzi dai fino in fondo dai 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 un sole veramente caldo veramente fu caldo ma come era il percorso poi avremmo modo di chiederlo attendiamo Grazie